Come va? Tutto bene? Allora oggi sono qua per fare un video per andare a sfatare un mito. Il mito di di quelli che con gli occhiali da vista diventano miracolosamente più belli e gli occhiali da vista fassulli quindi quegli occhiali che simulano gli occhiali da vista ma poi in realtà non sono con lenti graduate. Allora adesso vi faccio vedere io sono realmente miope e vado a mettere su i miei occhiali da vista quelli che uso di solito nella vita quotidiana e osservatevi i miei occhi al momento in cui metterò sugli occhiali da vista diventeranno più piccoli per la conseguenza appunto della lente graduata. Ecco, me li metto. Adesso un attimo che... ecco, li vado a prendere e voilà! Guardate, i miei occhi sono diventati più piccoli, no? Adesso invece vado a mettere su un paio di occhiali appunto finti quindi senza lenti graduate che simulano però quelli da vista e fate sempre attenzione ai miei occhi ok? Fate attenzione ai miei occhi e vedrete che la dimensione rimarrà quella naturale, non verrà modificata. Guardate eh... vorrei prenderli... metto su... ecco vedete che la dimensione dell'occhio è rimasta quella quindi non c'è la caratteristica tipica dell'occhio che viene modificato a seguito delle lenti graduate e quindi diciamo che quella particolarità che rende se vogliamo bello l'occhio di una persona miope è proprio il fatto che l'occhio a seguito di lenti graduate va a modificarsi e diventa più piccolo, diventa l'occhio di una talpa, quelle che vengono raffigurate nei fumetti e quindi la bellezza dell'occhio di un miope adesso qua c'è troppa luce e non si vede più una mazza comunque la particolarità dell'occhio di un miope è proprio quella che una volta che indossa il suo strumento per condurre una vita migliore ecco l'occhio si rimpicciolisce e quindi sfatiamo questo mito che se io sono una persona che ci vede bene e vado a prendere gli occhi finti da vista divento più... più bello, più attraente, più sexy perché non è così cioè la particolarità che piace tanto quando si guarda una persona realmente miope è proprio quella dell'occhio che viene rimpicciolito quindi tutte quelle persone miope realmente che noi vediamo e che con gli occhiali stanno bene per questo motivo stanno bene proprio per questo motivo mentre tutte le altre persone che invece miopi non sono e vogliono simulare l'aspetto di un miope e non ci riusciranno mai se non sono realmente miopi e quindi insomma sfatiamo questo mito va bene ok una persona che ci vede bene con un paio di occhiali che simulano quelli da vista sia la particolarità del colore di un contorno colorato attorno agli occhi però di fatto il suo sguardo non sarà modificato gli occhiali resteranno uguali a quelli che... scusate gli occhi non gli occhiali gli occhi resteranno uguali a quelli che erano prima di indossare gli occhiali da vista quindi insomma paio se volete continuare a spendere soldi tra virgolette inutilmente per sembrare un miope fatelo pure ma non ci riuscirete mai a sembrare un miope senza esserlo veramente va bene un saluto e buon proseguimento di giornata o di serata a seconda del momento in cui state guardando questo video ciao ciao ciao